amici di techroandroid.it benvenuti, ci troviamo oggi di fronte al nostro caro Nexus 4 pronti a parlarvi di una nuova applicazione, o meglio un'applicazione non nuova ma sempre nuova, sempre aggiornata, sviluppata in Italia e in italiano da sviluppatori italiani con lo scopo di aiutare l'utente a conseguire la patente. L'app in questione infatti è quiz patente più manuale, applicazione come già detto sviluppata in Italia, veramente molto completa, semplice ma ben fatta, presenta circa 7000 quiz, il manuale molto vasto e una particolare sezione sfida. Andiamo però ad analizzare nel dettaglio tutte e sei le modalità, tutte e le sezioni che ci vengono proposte. La prima sezione, quiz, è ovviamente inerente ai quiz, e troveremo una serie di 40 domande casuali da completare in 30 minuti, ossia una perfetta simulazione di esame scritto, con la possibilità però di accedere al manuale, infatti prendendo una domanda a caso, ad esempio questa, e tappando su manuale entreremo nel manuale appunto, nella sezione dedicata alla domanda, nel senso nella sezione dove troveremo la risposta alla domanda che ci sia stata proposta. Nel nostro caso avevamo una domanda inerente alla visiera del casco, aprendo il manuale entriamo nel paragrafo dedicato al casco. Come potete vedere, nonostante sia un argomento abbastanza semplice, quello del casco, il manuale è veramente molto ben strutturato, molto completo e sicuramente utile. Al termine di queste 40 domande, entraremo nella sezione di correzione, dove troveremo innanzitutto l'esito del quiz, il numero degli errori fatti, il tempo impiegato, la possibilità di condividere il nostro risultato su Facebook, nel mio caso forse è meglio evitare, e quindi come ho detto nella sezione di correzioni, dove troveremo le domande errate, anche quelle esatte ovviamente, ma principalmente le domande errate, e tappando sulla domanda entreremo nel paragrafo relativo all'argomento della domanda, e troveremo una dettagliata spiegazione in modo da rivedere gli errori e non commetterli più. Sezione molto interessante, utile principalmente per chi è già pronto a dare l'esame e ha bisogno appunto di simulazioni vere e proprie. La seconda possibilità, si tratta di questa scelta, che in linea generale è uguale a quiz, ma con la particolarità, secondo me molto utile, di selezionare i quiz che noi interessano, nel senso, se magari seguendo il corso scuola guida, abbiamo studiato soltanto un determinato, un piccolo numero magari di argomenti, e il nostro interesse è andarci a esercitare su quel tipo di argomenti. Se io, nell'orme sul sorpasso, non le ho ancora studiate, è inutile andare a fare dei quiz. In questa applicazione, questa modalità ci permette appunto questo, di selezionare le applicazioni, di selezionare gli argomenti che a noi più interessano, per poi andare a iniziare il nostro test. Inoltre, abbiamo la possibilità di fare un ripasso degli errori, ossia di rivedere le domande che abbiamo sbagliato, e inoltre abbiamo la possibilità di fare dei quiz che non abbiamo mai fatti o che abbiamo fatto non di frequente, in modo da ampliare il numero dei quiz fatti e non fare sempre gli stessi. Quindi, veramente molto molto interessante questa modalità, soprattutto per chi affronta passo dopo passo il programma scuola guida. La terza sezione, come vedremo, è il manuale, che appunto è suddiviso in categorie, ogni categoria a sua volta è suddivisa in tanti piccoli paragrafi, in questo caso abbiamo i segnali di obbligo, dove appunto troveremo ogni cartello, in questo caso, con la relativa spiegazione. Sono veramente tante, sono 25 argomenti, tutti molto completi, tutti molto ben fatti, alcuni ovviamente più lunghi di altri vengono ristretti, ma con un semplice tap possiamo andare a leggere tutto, e vediamo quindi come l'applicazione si presenti, come il manuale si presenti veramente molto ben fatto e molto completo, aggiornato, come ho già detto, a dicembre 2013. Quarta interessante modalità è quella, è sicuramente sfida. Particolarità di questa applicazione è che la modalità sfida permette di sfidare amici o sconosciuti. Infatti abbiamo la possibilità di iniziare una nuova partita sfidando gli amici di Facebook, gli amici di Quiz Patente Plus o un avversario casuale. In nostro caso abbiamo deciso di sfidare un avversario casuale e possiamo iniziare immediatamente a giocare. Il gioco consiste semplicemente in una simulazione d'esame con le classiche 40 domande senza la possibilità di accedere al manuale ovviamente, e alla fine dei 30 minuti regolamentari, se così vogliamo dire, l'utente che avrà risposto nel modo esatto a più domande vincerà la sfida. Siamo rapidamente alla fine della sfida. Troviamo un resoconto delle statistiche, ad esempio io, Antonino R, in 29 secondi ho risposto a 19 domande esatte totalizzando 499 punti. Il nostro avversario invece sta ancora giocando, effettivamente siamo stati un po' veloci. Comunque, abbiamo la possibilità di condividere con Facebook o di chiedere la rivincita al nostro avversario, ma la parte che a noi più interessa è sicuramente quella relativa alle correzioni. Qui infatti, come nelle modalità precedenti, abbiamo la possibilità di rivedere le risposte date, con le domande ovviamente, abbiamo una risposta in merito alla correttezza o meno della risposta data e la possibilità di andare a controllare nel manuale il perché, cioè andare a cercare all'interno del manuale, la risposta esatta, o meglio capire perché abbiamo sbagliato e che sicuramente risulta essere la cosa più importante, in modo da non commettere in futuro gli stessi errori. Quindi, modalità sfida sicuramente molto interessante e particolarità di questa applicazione. Infine, se così vogliamo dire, perché comunque iLike non è nient'altro che è un collegamento alla pagina Facebook dell'applicazione QuizPatente Plus, dove potete rimanere sempre aggiornati ed entrare in contatto con gli sviluppatori. Tornando quindi all'applicazione, l'ultima sezione è MyZone. MyZone, che dopo un rapido login, che vi permetterà di giocare, che richiede soltanto nick e password, l'email è soltanto opzionale, entriamo nella sezione dedicata alle statistiche. Qui infatti troviamo le statistiche relative ai quiz, le statistiche relative alle sfide, gli errori più frequenti, tutti i quiz svolti, l'accessorio pro memoria per ricevere una notifica a un determinato momento della giornata che ci ricordi di esercitarci e infine la possibilità di contattare gli sviluppatori. Andiamo però ad analizzare nel dettaglio le statistiche. La prima possibilità, cioè il primo insieme di dati viene raccolto nelle statistiche relative ai quiz, dove troviamo il numero dei quiz svolti, la media errori per quiz, la media errori per ultimi 5 quiz, la media errori per argomento, ossia ogni argomento, se abbiamo 25 argomenti come già detto, vediamo grazie a questi dati, vediamo a conoscenza degli argomenti dove abbiamo più problemi, più lacune in modo da concentrarci di più sicuramente su quelli, piuttosto che su un argomento che sappiamo meglio di un altro. Abbiamo le statistiche sfide, c'è una statistica relativa al numero delle sfide fatte con il numero delle vittorie, delle sconfitte e dei pareggi. Nella sezione di tutti i miei quiz troviamo gli errori frequenti, cioè le domande che più abbiamo sbagliato, ad esempio questa abbiamo sbagliato due volte, con la possibilità ovviamente di collegarci al manuale e approfondire, cercare di capire perché abbiamo sbagliato, perché la risposta è sbagliata. E infine abbiamo un riepilogo su tutti i quiz svolti, nel mio caso sono stati pochi, ma abbiamo la possibilità di andare a controllare tutti i quiz fatti, andare a vedere le risposte esatte e quelle sbagliate e controllare ovviamente col manuale la motivazione dell'errore. App sicuramente, come avete potuto vedere, è molto molto ben fatta, interessante, completa, mi sarebbe piaciuto averla quando ho preso la patente io, perché è come avere una scuola guida in tasca. Abbiamo infatti il manuale e la possibilità di fare i quiz in quel lungo momento della giornata. Soprattutto viene aggiornata continuamente e risulta veramente molto utile. Quindi detto questo, amici di TecroAndroid vi salutiamo, grazie per averci seguito e buone feste!